Caro sindaco, ormai da molti mesi, troppi mesi, è chiaro a tutti che non esiste più una maggioranza in consiglio comunale. Si apre con queste parole, inequivocabili, la lettera aperta del gruppo consigliare di Futuroin, inviata al sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, che di fatto lo sfiducia e lo mette in minoranza. Quanto accaduto due giorni fa, scrivono sempre i consiglieri, con la presenza di soli 15 consiglieri su 33 assegnati e con il conseguente scioglimento del consiglio, senza aver potuto discutere ed approvare il bilancio di previsione, è solo l'ultima più evidente dimostrazione dell'impossibilità di procedere oltre. La lettera di Futuroin prosegue chiedendo apertamente di restituire ai cittadini il potere di scegliere il percorso amministrativo futuro. Quindi il prossimo consiglio comunale di martedì potrebbe sancire la caduta della giunta Brucchi, già riesumata, dopo le dimissioni del sindaco presentate e poi ritirate in tempo utile la scorsa primavera. Dopo mesi di guerra di trincea, dunque i gattiani decidono di uscire allo scoperto, staccando di fatto la spina ad una consigliatura agonizzante. Ma arriveranno davvero le dimissioni del sindaco Brucchi? Nella lettera Futuroin auspica una decisione irrevocabile da parte del primo cittadino, chiedendo contestualmente a tutti i consiglieri un gesto di responsabilità con l'approvazione tecnica dello strumento contabile per il bene della città. Alla richiesta di dimissioni fa eco il Movimento 5 Stelle, che con Fabio Berardini parla di teatrino elettorale montato proprio da Paolo Gatti, che rimane il principale sostenitore del sindaco Brucchi, al fine di scrollarsi di dosso la responsabilità dei disastri cagionati dall'amministrazione negli ultimi anni. Rassegnare le dimissioni, continua Berardini in una nota, significerebbe non solo poter iniziare ad eliminare gli enormi sprechi che si stanno concretizzando solo per favorire qualche privato, ma anche iniziare ad intervenire complessivamente su tutta la situazione finanziaria dell'ente.